Dopo un mese e mezzo di allenamenti, amichevoli, discorsi, schemi, adesso si fa sul serio. Montecatini inizia il campanato domenica, al Palaterme arriva l'Usempoli, primo derby della stagione contro una delle sette squadre toscane del Girone. Una partita difficile contro una squadra che ha cambato poco, solo due giocatori, ma per il resto Montecatini deve affidarsi al suo entusiasmo, alla sua determinazione. Il Palaterme si sta vestendo a festa, si sta preparando dentro il foglio del campo tante iniziative, tante cose per attirare più pubblico, ma quel che conta sarà sicuramente la partita. E' stata salutata anche qui in comune dal sindaco, dalla giunta comunale di Montecatini, il più grosso in bocca al lupo per quella che sarà la sesta stagione consecutiva in Serie B. La città è con la squadra, la squadra rappresenta la nostra città di Montecatini Terme, portando in giro per l'Italia il nome della nostra città con grande orgoglio. E di questo io ringrazio tutti coloro che lavorano, dalla società allo staff, al territorio che supporta, ai giocatori che vanno in campo, allo staff tecnico. Da sindaco sono veramente felice, faccio un in bocca al lupo per la nuova stagione e sono sicuro che ce leveremo delle grandi soddisfazioni. Aspetto che i ragazzi diano tutto quello che hanno in campo, ho fatto la comandazione anche stamattina, che li voglio vedere uscire dal campo che non ce la fanno più. Poi se ho vinto sono contento, se perdo ma li vedo che hanno sputato tutto quello che avevano dentro. E niente, d'altra parte a Paracanestro non si gioca 5 contro 0, ma si gioca 5 contro 5. Ci sono le altre squadre, ci sono squadre attrezzate anche meglio di noi, magari città che ambiscono anche a salire. Però noi cercheremo di fare tutto il possibile per raggiungere la salvezza prima possibile e poi tutto quello che viene per noi è una grandissima vittoria e grandissima soddisfazione.